È stata ricevuta a Palazzo Lascaris dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e dall'assessore allo sviluppo economico, martedì 20 marzo, una delegazione di rappresentanti sindacali del Consorzio per il sistema informativo per discutere del futuro di CSI Piemonte. L'assessore ha annunciato che a breve la Regione presenterà una proposta di riforma che verrà vagliata dal Consiglio regionale da tutte le parti in causa, soprattutto dall'RSU dell'azienda affinché il Consorzio non venga privatizzato, perdendo le attuali caratteristiche di ente a partecipazione pubblica.